Si è concluso il campionato italiano pista categorie allievi junior e senior che si è svolto a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova in Veneto dal 5 al 7 luglio in uno splendido impianto sportivo e con una organizzazione impeccabile da parte della skating club pertichese. Come sempre è stata una bellissima esperienza per gli atleti b-roller che pur non avendo alcun impianto a disposizione sul territorio sono riusciti a ottenere dei risultati apprezzabili. La miglior prestazione è stata quella di Susanna Rocchetti, junior femminile, che ha corso un'ottima fase di qualifica nella 10.000 metri a eliminazione, conquistando poi un'undicesima posizione nella classifica finale. Buone prestazioni anche per Annibale San Giorgi, junior maschile, in crescita anche gli atleti delle categorie allievi maschili, Andrea Mazzola e Michele Rocchetti. Sfortunatissimo Achille San Giorgi al primo anno come senior, caduto nella qualifica della 10.000 metri. Brava anche Dora Ferretto che ha gareggiato nelle gare sprint dimostrando tenace e voglia di fare. Grazie alle prestazioni dei sei atleti biellesi, B-roller ha chiuso in 45esima posizione nella classifica squadre, su un totale di 79 partecipanti. La strada da percorrere per avvicinarsi ai podi è tanta, ma ogni volta i patinatori biellesi imparano qualcosa e riescono a gestire meglio le gare di una stagione che è ancora lunga, con impegni interregionali, nazionali e internazionali. Nelle prossime domeniche si gareggerà a Cantù e a Cassano, poi sarà la volta della bellissima Sei Giorgi di Santa Maria Nuova, tappa italiana di Coppa Europa e a settembre sarà la volta delle tappe conclusive del circuito nord-ovest della Maratona dei Mondiali e della Maratona di Berlino. Così spiega il presidente allenatore Federico Ugliengo. L'impegno che tutta B-roller dedica allo sport è tanto, atleti, allenatori, dirigenti, genitori e, senza avere impianti sportivi adeguati, è molto difficile ottenere risultati importanti e podi. Noi non mogliamo e speriamo che le amministrazioni locali si dimostrino disponibili ad ascoltare le nostre richieste e ci aiutino a realizzare il sogno di avere finalmente una pista di pattinaggio. Intanto ci divertiamo, facciamo esperienza e avviciniamo a questo sport decine di bambini e ragazzini nuovi ogni anno.